Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Per celebrare la Festa dell'Europa, un concerto di musica classica e un allestimento permanente nel foyer del Consiglio. Il servizio. Celebrata in Consiglio la Festa dell'Europa, istituita nel 1975 per ricordare la dichiarazione di Schumann e Monet del 9 maggio 1950, quando nacque l'autorità comune del carbone e dell'acciaio. Per l'occasione è stata inaugurata nel foyer dell'aula di Palazzo Pirelli l'installazione permanente Volo all'Europa, donata dall'artista paresino Vittore Frattini. Noi la accogliamo con messa gratitudine, ma anche nello spirito a cui questa opera ci vuole richiamare, cioè quello di continuare a costruire un'Europa che sia veramente l'Europa dei popoli e delle regioni. In serata l'auditorium Gaber ha ospitato un recitalirico con musiche di Puccini, Tosti, Verdi, Schubert e Bellini, che hanno rappresentato un vero e proprio inno all'Europa. Nella stessa giornata è stata pubblicizzata la dichiarazione ufficiale promossa dalla Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali d'Europa, nella quale si ribadisce il ruolo centrale dell'Europa, evidenziando come l'Unione deve sviluppare politiche che responsabilizzino sempre di più i territori. Il cibo come diritto fondamentale è un traguardo raggiungibile grazie alla lotta agli sprechi. È quanto ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipando a Seed&Chips, manifestazione svoltasi alla Fiera di Milano in occasione del Summit internazionale sulla Food Innovation, a cui ha preso parte anche l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. Cattaneo ha anche ricordato la necessità di promuovere e valorizzare la legge lombarda sul diritto al cibo, che si propone di ridurre gli sprechi alimentari del 50% entro il 2025. L'eccellenza sanitaria a Lombarda ha spiegato agli studenti in una lezione che ha ripercorso il sistema sociosanitario tra la sua evoluzione negli anni e i nodi che restano ancora da sciogliere. Il Presidente della Commissione Sanità Fabio Rolfi e i consiglieri Mauro Piazza e Raffaele Straniero si sono confrontati con tre classi di quinta dell'Istituto Professionale Fumagalli di Casate Nuovo in provincia di Lecco. In primo piano la legge regionale del 2015, la spesa sanitaria annua, ma anche le prospettive di lavoro nel settore. Palazzo Orchinto, la sede RAI e il rifugio antiaereo di Piazza Grandi e poi ancora atelier di artisti, spazi privati, fondazione e anche Palazzo Pirelli. E Open House Milano, la seconda edizione del festival che si svolge a Milano il 13-14 maggio, e che permette ai cittadini di visitare più di 80 edifici difficilmente accessibili, progettati da grandi architetti o sedi di importanti istituzioni. Info e mappa dei siti da visitare la potete trovare su www.openhousemilano.org. Palazzo Pirelli apre domenica 14 dalle 10 alle 17. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.